Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6 Nel corso di questo martedì l'alta pressione subtropicale continuerà ad avvolgere buona parte dell'Europa centro-occidentale quindi regalerà ancora condizioni metrologiche non solo estive ma comunque eccezionali con temperature di molti gradi oltre le medie del periodo In Italia una giornata complessivamente stabile, anche in Abruzzo cieli sereni ovunque per tutta la giornata Clima relativamente caldo, le massime oscilleranno tra i 29 e i 32 gradi, minime tra 15 e 20 gradi Un ulteriore aumento delle temperature arriverà tra mercoledì e venerdì con temperature che sfioreranno i 36-37 gradi ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona giornata Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni